Il combattimento diventa sempre un discorso di forza e comunque andrà sicuramente a fiorire poco a fare con il studio di un altro marziale per renderli più efficienti, più efficienti con il tempo. Faccio un esempio con le nostre forme, per me è un movimento, per me è un movimento impiacente, dopo questa efficacia, non è questo, dove non c'è nessuna, c'è questa ricerca di catena muscolare, dove il mio corpo, ok, proprio questo volevo dire, cioè sfrutto o cerco di sfruttare i suoi errori, perché se vado io contro di lui, vince lui, è troppo più forte, è più alto, è più grosso, è più, allora che senso ha studiare un'arte marziale? E' però diciamo solo, sempre scritto nel cerchio, aggiungo solo una tecnica, avete da scegliere fra un due, là, oppure diretto, un due, o dentro fuori, ma basta che questo sia il scritto. Io tengo sempre la sua linea centrale, non lo carico per così, vado sempre avanti e tengo la sua linea centrale occupata, sempre la sua linea centrale occupata, va bene? Percipa! Anche io che subisco, mi abituo a pan pan, vado anch'io! bene, non state ovviamente, vedo potrà di far male, vedo ma, solo il principio, molto più morbido, se lui fa il, non vi propongo questo eh, ma l'idea è questa, la mia idea è di rientrare sul suo, non di andare... bisogno che... guardiate questo tempo, cioè io non voglio questo, uno, due, tre, sono sempre sul suo tempo, uno, due, tre, sono sempre sul suo tempo, io ho bisogno di lavorare nei mezzi tempi, due, quando è il mezzo tempo? Quando mi porta lui? Chiaro? Sì, però per farlo ho bisogno di ritornare a... alla base, ritornare a base... e me lo prendo proprio... ma me lo prendo proprio tranquillamente e rimango lì! se non ho, adesso non posso insegnarvi anche subito, ma se non li assorbo, io si fai domani... non ce la faccio, guarda che c'è il dottore però... capite cosa vuoi dire? non ce la faccio andare avanti... sì, perché non puoi ripartire... ma parto così sì, parto di noi, perché se non è il tempo giusto... grazie mille...